Succede sempre così Pronto? 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 Sì, sono io, Erco Prima di finire i conti se ne va un'ora sana Eh, non so potuto venire prima E non sento bene Sì Ma che c'è? Che è successo? Che ti senti male? Sì, sì, aspettami Faccio un salto in caserma, posso il casco e poi ti vengo a prendere Sì, aspettami Ciao Ciao Rosetta, ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.